Cronaca politica società civile. In questi giorni Napoli è balzata su tutte le cronache mediatiche per la vicenda della piccola Noemi, coinvolta in raid a cielo aperto camorristico ed ora in gravi condizioni all'ospedale Santo Bono. Ne parliamo con un rappresentante delle istituzioni, il professor Severino Nappi. Buongiorno professore. A tal proposito lo stesso Presidente Mattarella si è mobilitato per portare sostegno ai familiari della piccola Noemi che come abbiamo poc'anzi detto purtroppo è ancora in prognosi riservata. Lei crede che questa mobilitazione di tutta la politica italiana, regionale ma anche locale trattesi appunto di una sorta di dovere morale oppure di una presa di consapevolezza che qualcosa dovrà pur essere fatto per la nostra gente? Beh certo, una bambina di 4 anni che riceve un proiettile di guerra in una città, in un pomeriggio qualunque in mezzo alla gente è ovviamente una cosa che colpisce, che ti rende veramente inquieto e ti preoccupa, preoccupa moltissimo. Fare un distinguo, il Presidente Mattarella rappresenta anche istituzionalmente tutti gli italiani, quindi è giusto che sia andato a trovare la famiglia della bambina, si sia avvicinato a Noemi, abbia espresso la solidarietà di tutti gli italiani. Quello che trovo meno apprezzabile è la gara alla solidarietà pelosa, non perché non sia giusto manifestare vicinanza e indubbiamente la famiglia di Noemi vive una condizione, è un momento di dolore enorme, comprensibile peraltro, ma immaginare che questo tipo di risposta sia quella che serva è veramente grave, anche perché una solidarietà costo zero, vai lì, fai una foto opportunity come si dice di questi tempi e poi che succede? Il vero dramma è quello che vive questo territorio, perché io credo che non ci sia una grande distanza tra la guerra che si combattono magari in altre parti del mondo e che noi vediamo in televisione, ci sono le stesse madri piangenti, la stessa sensazione di dramma e di dolore da quello che poi accade qui, ma non è accaduto solo con Noemi, è accaduto pochi giorni fa, si è rischiato un'altra vicenda uguale, è accaduto qualche anno fa con un bimbo di pochi anni ucciso davanti al nonno, accade periodicamente, perché qui c'è una guerra silenziosa, quella di una criminalità, peraltro stracciona, non ha neanche il fascino di Gomorra, di altre vicende, ma è veramente la criminalità della mediocrità, che non ha rispetto per la vita umana, perché non ha rispetto neanche della propria vita, rispetto al quale c'è bisogno di uno Stato più presente, sicuramente c'è bisogno di forze dell'ordine, di un esercito che però faccia l'esercito e non come qui sia costretto da norme singolari a fare parata, c'è bisogno quindi di un'attenzione e quindi più mezzi, più persone che si dedicano al contrasto alla criminalità organizzata e non annunci, io li sento da anni, i numeri sono sempre gli stessi, anzi il calo delle forze dell'ordine in questa città è un dato veramente costante, però il vero problema è che accanto alla vicenda del dolore e della consapevolezza di un intervento repressivo c'è una questione centrale, la Camorra non si sconfigge solo con le forze dell'ordine, ma si sconfigge anche con un'azione concreta che restituisca fiducia e speranza alle persone, ai giovani, a chi il lavoro l'ha perso, a chi sente che lo Stato non c'è, perché a quelli bisogna parlare per dare un'opportunità, togliere la manovalanza alla Camorra non è un esercizio rituale che si fa con le parole o con le visite, ma con un'azione costante, io direi silenziosa, fatta di azioni concrete. Lei a mezzo stampa pochi giorni fa ha sostenuto che nella lotta alla criminalità organizzata manca realmente una visione concreta del futuro, come vede umanamente e politicamente il futuro della nostra città? Il problema vero è che a Napoli e in Campania manca una visione strategica di quello che bisogna fare per cambiare davvero le cose, io penso che c'è bisogno, partendo dai giovani che sono ovviamente l'elemento centrale della nostra situazione, se non si mettono in piedi percorsi formativi finalizzati all'assunzione, se non si investe riducendo il costo del lavoro, se non si aiutano le piccole imprese ad accedere al credito, se non si combatte la burocrazia, se non si fanno degli strumenti operativi che nell'immediato diano la consapevolezza che qui qualcosa si può fare, se non si investe sull'artigianato, i mille mestieri di questa città, se non si restituisce una prospettiva, qui se una lampadina si fulmina, rimane così per due anni e un cittadino che vede questo e magari vive una strada buia e magari ha una figlia di 16 anni che non sa come tornare a casa la sera, oppure se ha una nonna che si rompe il femore e rimane lì bloccata e rischia di morire perché non ci sono politiche sociali, ma come voi che creda allo Stato e che investa sulla legalità, ecco le cose che bisogna fare e non è neanche vero che le risorse non ci sono, le risorse ci sono se si sanno utilizzare. Napoli ha il record assoluto dello spreco dei soldi pubblici, perché abbiamo restituito addirittura 100 milioni per rifacimento del centro storico, che vive su un turismo che è spontaneo, che vive sull'immaginazione dei napoletani, noi siamo diventati la patria dei bed and breakfast, ma c'è per caso una regia o c'è soltanto la capacità dei campani di essere fantasiosi, null'altro, quindi che dobbiamo fare? Aiutare questo sistema, cominciare a mettere queste risorse a disposizione, la città di Napoli è bella ma molti palazzi sono in difficoltà, investiamo sull'edilizia, mettiamo a disposizione delle risorse, abbiamo tanti palazzi abbandonati, ma perché invece di affidarli come fa il nostro sindaco agli amici degli amici non immaginiamo di mettere a disposizione a chi ha dei progetti e il miglior progetto può ripartire, può diventare luogo di lavoro a condizione che tu assuma delle persone, perché non fare cose di questo genere? La politica dovrebbe servire a questo, se diventa slogan, proclama, semplicemente idea astratta e ammiccamento, il selfie o la chiacchiera o la battuta, è chiaro che alla fine poi si riduce tutto in una gara dell'effimero, ma poi l'effimero passa e i problemi restano. Lei ha anche proposto come soluzione quella di aprire il tavolo alle persone per bene, una parola che mi ha particolarmente colpito, per poter vincere l'illegalità. Ora, in un'ottica sensibile, umana, ma soprattutto democratica, in cui il cittadino deve essere tutelato non solo da un punto di vista dei diritti, ma proprio per l'incolumità, cosa sente di dire a tu per tuoi genitori di Noemi che hanno anche preventivato di poter lasciare Napoli, non solo, ma tutti i cittadini e turisti che affollano la nostra città e che temono talvolta di poter essere coinvolti, ecco, in uno sparatorio a cielo aperto. Beh, io partirei da una considerazione. Le persone per bene, come quella che viene chiamata società civile, non possono continuare a girare la testa dall'altro lato e pensare soltanto ai fatti loro. Chi più ha, se ha a cuore la propria terra e non in modo rituale, deve impegnarsi davvero, cominciare a dedicare tempo ed energia per costruire una rete e un progetto che non ha colori, che non ha bandiere, che non ha bisogno di identificarsi in un partito, se non in quelli che ci stanno per cambiare il nostro posto, per dare un'opportunità alla Campania, a Napoli, di essere più sereni. A Noemi, ai genitori di Noemi, noi oggi non possiamo dare altro che un impegno. Che cosa ci si aspetta a due persone che hanno visto una bimba di quattro anni trafitta da una pallottola esplosiva di quelle che si usano nello Yemen o in Libia, oggi? E mica gli puoi contare la chiacchiera. Ogli porti una rete di persone che si impegnano a garantire a questa bambina e agli altri bambini il futuro della città, mettendoci le facce, cominciando a proporre delle opportunità, chi può ha tante opzioni, questa è una città che ha straordinarie idee. Se cominciamo a dedicare un po' del nostro tempo a immaginare un programma, tra poco si voterà a Napoli, in Campania, se cominciamo a costruire un progetto e a chiedere a chi ha responsabilità istituzionale o anche voglia di impegnarsi, di realizzare un progetto da costruire insieme, mettendoci le competenze che ci vogliono, finalmente daremo una ragione a tutti e quindi anche ai genitori di Noemi per dare ancora fiducia a una terra bellissima che però ha bisogno di essere innanzitutto amministrata bene. La rete della speranza spesso si costruisce sulle difficoltà come nel nostro caso. Lei quale augurio fa ai napoletani? Ai napoletani di far cadere il velo che copre questa città bellissima e meravigliosa e quindi di poterle godere fino in fondo tutte le sue bellezze e opportunità. La nostra testata vanta un nome importante, emblematico, il monito. Qual è il monito umano e professionale di Severino Nappi? Penso che un monito sia quello che fece tantissimi anni fa e mi è rimasto impresso da quando ero ragazzino. Un presidente americano famoso passato alla storia anche per la sua fine tragica che era John Kennedy che nel suo messaggio di insediamento disse che era opportuno che tutti quanti si preoccupassero di pensare che cosa potevano fare per il loro paese prima di immaginare che cosa si potesse fare per se stessi. Secondo me se ciascuno di noi dà un attimo di quel tempo quel messaggio straordinario può diventare in particolare per le nostre potenzialità, una leva che può cambiare finalmente questa città e questa terra. I bambini, un'attenzione particolare lei ha riservato loro, vuole parlarcelo brevemente? Beh, sulle mie pagine social abbiamo provato a lanciare un'iniziativa, chiedere ai bambini di disegnare la nostra terra, il nostro posto, immaginare che cosa è secondo loro e che cosa vedono della loro terra. È un modo per cominciare a riflettere su come i bambini vivono il quotidiano, di come i bambini vivono questo mondo così complicato e difficile e apprendere dai loro disegni che cosa bisogna fare. Naturalmente non un'iniziativa fine a se stessa, ma un modo poi per parlare attraverso i bambini e i loro genitori, perché io sono sicuro che ogni mamma che poi riflette sul disegno del proprio figlio, introietta un messaggio, una riflessione che poi diventa parte del suo quotidiano. Quindi sono i bambini che ci possono dare un segnale di opportunità, un segnale di attenzione e anche un monito per restare al nome della vostra testata, perché è di quello che abbiamo bisogno. Cominciamo a guardare quello che bisogna fare, come viene visto il nostro mondo con gli occhi di un bambino e impariamo da loro. Grazie. Grazie a voi.